L'Inc è un'associazione di studenti universitari, un sindacato studentesco quindi che tenta di occuparsi delle politiche studentesche e del mondo dell'università da un punto di vista sindacale, dalla tutela dei diritti, da quelle che sono le questioni che riguardano le questioni materiali, la vita materiale degli studenti. E non c'è niente di più attinente alla materialità della vita dello studente degli spazi in cui è chiamato a studiare, gli spazi che lo sappiamo alla Sapienza sono assolutamente esigui, è una struttura quella della Sapienza che non riesce ad offrire spazi adeguati per tutti quanti i corsi di laurea e per tutte le centinaia di migliaia di studenti che ha iscritti. Per questo motivo da qualche anno la Sapienza porta avanti una politica di decentramento, cioè cerca di ottenere, di acquistare, anche di ereditare in alcuni casi immobili più o meno nella zona di pertinenza della Sapienza ma anche in altre zone della città per trasferire lì le proprie strutture. E da questo punto di vista noi come studenti non saremmo affatto contrari, anzi è evidente che la situazione degli spazi della Sapienza non è più gestibile in quel suo modo teso soltanto a costipare gli studenti nei pochi spazi della città universitaria che c'è a Piazzata Aldomoro. Perché questo impedisce di avere degli spazi adeguati ad esempio per la produzione culturale, ad esempio per le attività degli studenti, per queste cose che sono fondamentali nella vita secondo me di un'università. Qual è il problema, qual è il motivo per cui noi oggi siamo qui a criticare anche il progetto di decentramento della Sapienza? Il problema è che negli anni scorsi con gli atti passati e tanto più con la questione Santa Maria della Pietà la Sapienza ha portato avanti un'idea di decentramento assolutamente irrazionale, assolutamente poco utile per gli studenti. Quindi oggi l'idea di decentramento che ha la Sapienza è fondamentalmente acquisire degli spazi più o meno dove gli capitano e trasferirci non facoltà, non corsi di laurea, non cattedre specifiche di corsi di laurea, ma pezzi che hanno bisogno di quella capienza. Per esempio il Santa Maria della Pietà è un esempio abbastanza chiaro di questa politica. Del Santa Maria della Pietà si parla della Sapienza da anni e se ne parla come una specie di panacea che viene presentata più o meno a tutte le facoltà che hanno problemi di spazio. Da alcuni anni si dice a tutte le facoltà non vi preoccupate tanto ci sarà il Santa Maria della Pietà. Cosa significa questo? Significa che per esempio la facoltà di filosofia a cui io sono iscritto viene detto da anni che i problemi di spazio saranno risolti distaccando il corso di laurea di scienze della formazione che è all'interno della facoltà per trasferirlo al Santa Maria della Pietà. Poi si dice anche però a biologia per esempio che alcune parti del corso di laurea di biologia saranno trasferite al Santa Maria della Pietà. A volte si dice per i corritori sì sì ma andiamoci biologia che tanto ci sono le piante è bello e adatto per i biologi o altre cose assolutamente prive di valore didattico. Allo stesso modo tantissimi altri pezzettini spezzatini di corsi di laurea dovevano essere mandati in quel luogo. Così come avviene oggi per esempio per sociologia una facoltà che ha tre sedi completamente diverse tra di loro per cui la sede centrale di via Salaria una sede alla caserma Sani a piazza Vittorio che condivide con altri tre corsi di laurea di altre tre facoltà diverse e poi uno spazio che forse stanno riuscendo a lasciare sulla prenestina e un ex cinema uno spazio assolutamente inadatto per la facoltà in cui appunto secondo l'organizzazione della facoltà gli studenti dovrebbero vagare ogni giorno più volte al giorno tra questi tre punti della città abbastanza distanti tra loro. Ora resta da giudicare a voi se questo non solo è un buon modo per studiare ma soprattutto per socializzare per creare una comunità universitaria che sia una comunità che produce cultura e che non solo va così a timbrare il cartellino alle lezioni e agli esami. Il Santa Maria della Vita dicevo rientra esattamente in questa logica secondo noi sbagliata e razionale e tanto più perché l'idea è quella di fare lì appunto un fantomatico campus un campus che è ingestibile dal punto di vista di come funzionano oggi le norme sul diritto allo studio perché le residenze universitarie e noi diciamo per fortuna non sono assegnate sulla base della vicinanza della residenza al corso di laurea altrimenti questo potrebbe voler significare che se uno va a studiare al Santa Maria della Vita e ha un reddito alto ma al Santa Maria della Vita ci sono molti posti per dormire può aver assegnato una casa dello studente a fronte di studenti che studiano in altre facoltà che non hanno una casa dello studente vicina e che hanno un reddito molto più basso e quindi avrebbero diritto alla casa dello studente. Un campus è qualcosa di ipotizzabile in un'organizzazione universitaria che dà un diritto allo studio talmente ampio, con servizi talmente grandi che si può permettere di definire i servizi su base territoriale e quindi dire siccome io sono in grado in tutte le sedi universitarie di garantire uno spazio di residenza uno spazio di mensa allora posso dividerli per territorialità ma in un luogo dove gli studenti della Sapienza vengono mandati a dormire a Ponte di Nono, a Spinaceto in quartieri assolutamente isolati, lontanissimi dalle strutture universitarie e soprattutto lontanissimi da qualsiasi possibilità di aggregazione sociale è chiaro che un'idea di campus, un'idea di divisione territoriale delle case dello studente è impossibile in più noi chiediamo che piuttosto che immaginare fantomatiche strutture di questo tipo si metta mano alle strutture fatiscenti delle case dello studente che ci sono e all'idea assurda che si possano concentrare residenze universitarie in posti che gli studenti non vivono in cui dovrebbero andare come in dei dormitori semplicemente per andare a dormire e che peraltro non sono collegate minimamente con le strutture universitarie e mi riferisco soprattutto alle residenze di Ponte di Nono e di Spinaceto ma vediamo, ed è la cosa più grave di tutte, che il decentramento della Sapienza è stata una bandiera è stato uno slogan da raccontare agli studenti, alle istituzioni, alla città sia da parte della Sapienza sia da parte delle istituzioni tanto che la Sapienza dopo alcuni anni fa dei passi indietro si rifiuta di andare in quelle zone, in quelli stabili e si rifiuta sicuramente non come hanno fatto pensare i giornali per colpa dell'ex lavanderia che è proprio l'unico soggetto che sta sul Santeria della Pietà che non c'entra nulla con questa situazione e che anzi soprattutto è l'unico soggetto che non ha niente da guadagnare dall'assegnazione di un certo tipo o di un altro tipo del Santeria della Pietà se non l'idea che il Santeria della Pietà venga utilizzato per un uso pubblico, sociale e culturale ma semmai hanno da guadagnarci la regione e evidentemente non tanto l'università che si rende conto che dovrebbe andare a prendere dei padiglioni che sono ancora occupati da altre strutture che chissà quando mai verranno smantellate e destinate ad altri scopi e soprattutto una Sapienza che aveva l'interesse non solo ad acquisire il Santeria della Pietà ma ad acquisire altre aree che servirebbero al suo sviluppo che la regione gli aveva promesso e sulla quale evidentemente si sta tirando indietro mi riferisco soprattutto allo spazio accanto all'ospedale Sant'Andrea che è un ospedale universitario che sta a bordo di studenti che non sanno dove mettere e a cui dovrebbe essere assegnato uno spazio per costruire una struttura universitaria e uno spazio che invece non gli viene assegnato e sicuramente lo stesso Rettore Frati l'ha detto questa non assegnazione è uno dei moventi della scelta di non andare nemmeno al Santeria della Pietà quindi diciamo questo lo dico per provare a delineare qual è la situazione degli investimenti della Sapienza sulla città una università che è evidente che ha la necessità di capillarizzarsi nella città ma che secondo noi lo deve fare in un modo molto più razionale permettendo agli studenti di spostarsi l'intera facoltà di spostarsi in una zona diversa della città che può far vivere e può far sviluppare anche dal punto di vista dell'aggregazione culturale perché sappiamo che gli studenti portano l'aggregazione culturale ma che diciamo un decentramento che deve essere portato avanti in un modo razionale e non volto semplicemente a parcheggiare da qualche parte gli studenti e poi chi se ne frega se devono farsi da una parte all'altra la città tutti i giorni per andare da una lezione all'altra